Buonasera e benvenuti a questo nuovo seminario del Comitato Torino Finanza, organizzato in collaborazione con l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino, l'Ordine degli Ingegneri di Torino e l'Associazione Nazionale Consulenti Finanziali. Questa sera parliamo di Longevity Planning. Ringrazio e saluto innanzitutto i presidenti degli renti, l'amico Luca Svisio, l'ingegner Giuseppe Ferro e il dottor Luigi Conte per l'aiuto fornito nell'organizzazione del seminario. Ringrazio e saluto anche i relatori che questa sera ci introdurranno a questo tema di grande attualità. Emanuela Notari, Longevity Strategist Partner di Actil Longevity Institute, Simona Roggero, medico di Crescendo Care, Fidel Iomet, Emanuela Barreri, psicologa del lavoro e dottore commercialista, Manuela Soncini, Head of Wealth Advisory di Unicredit e Mario Romano, direttore generale di Sella SGR. Ringrazio e saluto in il dottor Michele Porfido che questa sera coordinerà i lavori. I seminari del comitato sono stati finora rivolte alle imprese, tipicamente alle PMI, affrontando temi sulla buona gestione d'impresa o comunque di attualità economica. Questa sera invece uniamo due aspetti. Da un lato l'aspetto economico perché sta diventando oggi il mondo dei senior anche un mondo di business, ma soprattutto ci rivolgiamo anche a un pubblico di risparmiatori. Il longevity planning è un tema che è diventato attuale da poco tempo, ma è sempre più attuale perché la vita media si allunga e decrescono le nascite. Di conseguenza abbiamo un aumento della percentuale dei senior. Questo è un aspetto che è estremamente importante soprattutto se collegato secondo me a un altro tema, ovvero che una quota più che proporzionale di ricchezza rispetto alla numerosità del segmento è nelle mani dei senior. È ovvio che anche qua esistono settori di senior con redditi con i quali è difficile sopravvivere, ma mediamente la ricchezza è in mano buona parte anche dei senior. Quindi abbiamo dei problemi che possono essere per una parte problemi sociali, dati delle pensioni basse, abbiamo dei problemi che possono anche essere quelli di avere, di cercare di crearsi un reddito sufficiente per tutta la durata della propria vita, propria e dei propri più stretti familiari. Ed è per questo che a dirà anche di tutto il sistema di investimento è nata anche un'economia. Pensiamo ai servizi per i senior che sono sempre più interessanti. Oggi vediamo che crescono in numero anche le SRA e le soluzioni abitative condivise e credo che però non altrettanto sia fatto anche a livello dei servizi. Oggi in previsione c'è una mancanza comunque di chi possa gestire queste strutture che è spaventosa così come sta succedendo comunque anche in altri settori economici dove si riscontrano delle carenze di manodopera. Ma questo può diventare estremamente critica perché si tratta di personale medico, di personale paramedico e di personale comunque sanitario. Quindi c'è tutto un mondo economico che sta dietro al tema della longevity. E per questo credo che il tema di questa sera sia estremamente importante anche sotto un profilo economico. Io vi ringrazio e passo la parola a Nicola Lucas Visio, presidente dell'Ordine dei Comercialisti di Torino, per il suo saluto. Mi sentite meglio adesso? Mi sentite meglio? Vi chiedo scusa, innanzitutto si vede che sono così vecchio da non usare bene i meccanismi nuovi di nuovo utilizzo. Dicevo che siamo in un mondo nel quale ogni giorno, ogni anno la vita media si allunga di tre mesi. Questo rappresenta sicuramente un problema per il nostro futuro, per le nostre pensioni e per la gestione di quelle che saranno le problematiche anche delle nostre generazioni in termini di partecipazione all'RSA o condivisione anche della vita con le nostre famiglie. Quindi parlare di questi argomenti non è sicuramente sbagliato, anzi è molto importante. Abbiamo già anche visto che le modalità in cui pensare un po' di più alla propria vita rispetto al lavoro sono assolutamente fondamentali. Lo smart working è stato uno degli elementi più importanti. Alla luce di questo noi commercialisti, lo vedrete oggi con la mia collega Emanuele Barreri, stiamo allargando anche i nostri ambiti. Lei si occupa oltre che di numeri anche di psicologia, ma queste sono due filosofie che sono ormai assolutamente vicine. E quindi su questo non possiamo che essere attenti, altrimenti questo Stato e questo Paese che ha sicuramente dei grandi vantaggi, pensate al valore della sanità in Italia rispetto ad altri Paesi, non sarà più in grado di reggere. Su questo quindi la sanità da una parte, ma anche dal sistema pensionistico dall'altra, sono elementi sui quali tutti dobbiamo ragionare insieme per non lasciare un problema in più ai nostri figli. DSG è sicuramente un argomento sul quale ci stiamo battendo, ma questi sono argomenti ancora più importanti e quindi mi auguro che la condivisione di oggi abbia un futuro. Quindi grazie, come sempre, la partecipazione a questi eventi è sicuramente crescente dal punto di vista anche culturale e quindi non posso che ringraziare il Comitato Torino di Finanza, il suo presidente Vladimir Rambaldi e il direttore Vittorio Favetti, perché sono sempre degli spunti di interesse che spesso legano anche professioni diverse e quindi anche la presenza oggi del presidente degli ingegneri, Beppe Ferro, è sicuramente in questo senso una collaborazione sempre più importante per questa città. Grazie e buon lavoro. Grazie Luca, chiedo adesso al presidente dell'ordine, ingegnere, ingegnere Giuseppe Ferro, di portare il suo saluto. Grazie mille per l'invito, per poter permettere alla nostra categoria di partecipare a questi webinar che sicuramente aprono un attimo i nostri orizzonti, noi ingegneri siamo spero più tecnologici dei commercialisti, spero che vi sentiate abbastanza bene, nonostante i mezzi di fortuna, ma diciamo da questo punto di vista siamo un po' proprio anche alla ricerca di idee nuove davanti a un patrimonio per esempio edilizio che invecchia insieme alla popolazione è un patrimonio industriale in dismissione, quindi questa trasformazione anche dal punto di vista urbana è legata più a spazi legati agli arcani e a supporto per la popolazione anziana sicuramente vedrà gli ingegneri assolutamente in prima linea. grazie ancora per l'invito e auguro buon lavoro. Grazie Presidente Ferro, Presidente Luigi Conte, Presidente di Anasp, Associazione Nazionale Consulenti Finanziali. Buon pomeriggio, mi unisco ai ringraziamenti e sicuramente agli auspici perché questi eventi sono certamente eventi che consentono innanzitutto di consolidare le conoscenze rispetto a temi che diventano sempre più centrali nella vita del nostro paese. In generale il problema demografico ha un impatto trasversale in più contesti. Noi come consulenti finanziari, a dire il vero, siamo sensibili rispetto al tema da almeno un decennio se non più perché nella pianificazione patrimoniale di famiglie e imprese abbiamo rilevato l'evoluzione rapida della problematica e quindi gli effetti della stessa rispetto alle soluzioni da trovare. Il nostro osservatorio resta un osservatorio privilegiato perché viviamo la quotidianità del cambiamento, quindi non lo tracciamo esclusivamente attraverso ricerche, statistiche o un impatto strettamente quantitativo, ma viviamo quotidianamente oramai come dicevo da più di un decennio questo cambiamento estremamente impetuoso che sta da un lato portando quello che banalmente si rappresenta come un invecchiamento rapido della popolazione e quindi un tendenziale legato anche al fatto che non si genera, non si procrea più con un tempo. Oltretutto però c'è un'altra questione che quello che un tempo si definiva dal nostro punto di vista ricambio generazionale sta diventando interazione generazionale, ci sono contesti familiari ma ancor più di impresa in cui 4-5 generazioni si ritrovano a operare diciamo dovendo dialogare necessariamente, dovendo trovare dei punti di contatto per far progredire il business o quantomeno i punti di interesse comuni della famiglia o dell'impresa, in primis dell'impresa quando si parla di business. Questo è un tema delicato, un tema rispetto al quale bisogna porre l'attenzione anche perché appunto la longevità diciamo dei fondatori per esempio di imprese che in Italia sono numerosissime, sono piccole e medie, restano in sella pur acquisendo all'interno della stessa impresa i pronipoti, i bisnipoti che in realtà approcciano a quel tipo di attività con un'altra prospettiva, un'altra dinamica impostativa. Quindi questo è un po' il senso. Oltretutto c'è un aspetto che noi rileviamo fondamentale relativamente al quale confrontarsi ed è l'aspetto che concerne diciamo la dimensione normativa rispetto a questo tema perché è chiaro che non basta un impegno diciamo delle organizzazioni pur lodevole come le nostre che vivendo ripeto il tema, il problema dall'interno hanno una maggiore sensibilità. Bisogna che tutti facciano loro parte e che le istituzioni in particolare quelle cogenti legate alla produzione normativa si rendano conto che queste dinamiche sono dinamiche impattano sui conti dello Stato in maniera importante e da lì bisogna probabilmente agire per far sì che si trovi un nuovo equilibrio. Ecco la ricerca di un nuovo equilibrio credo che sia fondamentale. Per cui lo devo di iniziative come queste entriamo nel merito delle questioni come si farà con l'intervento dei relatori autorevolissimi. Cerchiamo di, al termine di questo incontro e di altre che ve ne saranno sicuramente nel merito, di portare delle proposte concrete per dare un elemento distintivo alla nostra associazione di idee. Io purtroppo sono costretto a lasciarvi tra dieci minuti per impegni istituzionali precedentemente presi, però parteciperò per quanto possibile alla procedizione dei lavori anche eventualmente collegandomi successivamente. Vi saluto e vi ringrazio. Grazie Presidente Conte, io ora lascio la parola all'amico Michele che prego di condurre la serata e seguire tutti gli interventi. Grazie Michele, a te la parola. Non sentiamo, non sentiamo, il microfono è disattivato. Attivi il microfono, grazie. Grazie, avevo disattivato il microfono per ascoltare gli altri. Iniziamo subito nel vivo del seminario, subito con Emanuele Notari che da anni si occupa di questo tema e ha sviluppato anche una serie di corsi per i veri professionisti per affrontare tutte le problematiche che non sono soltanto di un tema ma sono di ampio genere. Quindi lascio la parola a Emanuela per sviluppare il tema La vita si allunga come abbiamo visto. Bisogna chiaramente pensarci e bisogna pianificare oggi il nostro futuro. Grazie Michele, grazie a tutti i presenti e a chi ha organizzato questo incontro. Metto subito in condivisione le poche slide che ho perché abbiamo tutti un tempo limitato, quindi cerco di non perderlo e avendo un tempo limitato ho scelto di fare un overview, insomma di dare un'indicazione connettendo i puntini di che cosa sta succedendo nel nostro paese e perché tutto quello che sta succedendo ha degli effetti sulle nostre vite e sulla necessità di pianificarle in un modo diverso rispetto al passato. Tanto che quel longevity planning che ha annunciato Michele è diventato una delle cose che interessano particolarmente la società di cui faccio parte che è Active Longevity Institute che ha fatto il primo master per consulenti finanziari, private, wealth manager, commercialisti, tutti coloro che hanno a che fare con la gestione del patrimonio degli individui in chiave di longevità. Vado rapidissima contando che certe cose le sappiate già perché ne hanno parlato i giornali ma i giornali tendono a parlarne facendo dei verticali, dei silos, su singole questioni del quadro generale. Io invece vi aiuto, cerco, spero di aiutarvi oggi a metterle insieme. La prima cosa di cui parliamo è, sì, l'abbiamo già detto, viviamo più a lungo ma quello che sta realmente interessandoci in modo particolare non è tanto la possibilità di arrivare a 90-100 anni, cosa che già succedeva. Nel corso della storia ci sono state personaggi che hanno vissuto molto più a lungo della media della loro epoca ma erano appunto privilegiati, erano sovrani, regnanti piuttosto che intellettuali o artisti con una vita più semplice di altri che invece l'avevano piuttosto difficile. Oggi invece quello che sta succedendo è una relativa democratizzazione della longevità. A destra vedete la regina Elisabetta ma a sinistra c'è una signora che ha 105 anni e che di mestiere fa i tatuaggi come potete vedere che è stata sulle copertine di Vogue. Questo per dire che non occorre più essere un regnante per avere la possibilità di arrivare a quasi a vite centenarie. La parola democratizzazione tra virgolette perché in realtà ci sono ancora determinanti di longevità che hanno a che fare con il livello socio-economico e con la scolarizzazione. Il livello socio-economico ci arriviamo tutti per intuito, sulla scolarizzazione magari non tutti lo sanno ma i laureati vivono più a lungo dei diplomati, i diplomati più a lungo di chi ha una licenza scolastica inferiore. Questo naturalmente ci porta a una prima considerazione, si allunga questo ciclo di vita, l'abbiamo strecciato il più possibile cercando di mantenere quella linearità che c'era propria che viene dal novecento per cui la vita divisa in fasi che si susseguono uguali per tutti studi, lavoro, carriera, famiglia, pensione, l'abbiamo strecciato il più possibile a forza di stirarlo perché alla fine abbiamo guadagnato una ventina d'anni sul 1948, quindi la prima registrazione di media di aspettativa di vita privata delle formazioni che imponeva la guerra, quindi rispetto al 1948 viviamo venti anni in più, vuol dire un terzo di vita in più, che è stato distribuito però in tutta la seconda parte della vita, se prendiamo come modello una vita centenaria dai secondi cinquant'anni sono quelli che sono cambiati in virtù di questo aumento di aspettativa di vita, tanto da aver creato una nuova fase che è la fase della nuova maturità che io un po' provocatoriamente chiamo adolescenza della senescenza che non è nemmeno corretto, ma insomma fa rima quindi ci si ricorda, che è una fase che si interpone tra vita adulta e longevità mettendo insieme per la prima volta in modo assolutamente storico la curiosità e le energie di una età normalmente più giovane e l'esperienza di un'età più anziana, tutto in un'età che non è né giovane né anziana, è anziana per i demografi perché abbiamo ancora la soglia dei 65 anni, ma in realtà già i geriatri italiani hanno detto le persone tra i 65 e i 75 non sono clinicamente anziane dovremmo spostare l'età di inizio di vecchiaio. La parte invece che vedete di questa foglia immaginaria più scura è la parte di longevità, quindi aumentando l'aspettativa di vita ci si inoltre ha sempre di più in traguardi di longevità inediti con tutte le fragilità che evidentemente questo comporta. Quindi la nuova maturità è il regalo che ci sta facendo la longevità, un pezzo di vita in più durante il quale facciamo un sacco di cose che prima non si facevano e poi questa fase successiva che è più evidentemente più esposta a fragilità. Ma come accennava qualcuno abbiamo anche, siamo anche un paese di denatalità ormai da tanto tempo, quindi al punto che non ci mancano più solo i bambini ma ci mancano i giovani adulti, ci mancano i trentenni, i trentacinquenni perché sono tanti anni che non facciamo abbastanza figli. Per tenere in equilibrio la popolazione ci vogliono almeno due figli per coppia evidentemente. Noi siamo a 1.20, ultimissimo dato Istat di pochi giorni fa, quindi è evidente che la popolazione si sta restringendo. Questo perché mancandoci ormai i trentenni e i trentacinquenni mancano donne in età fertile che sono previste in diminuzione ulteriore fino a 2080 e uomini in età fertile. Quindi in assenza di politiche diverse, di forse anche di una percezione strategica dell'immigrazione siamo in questa condizione. Questo sbilancia il rapporto tra giovani e anziani, quindi cresce il numero di anziani anche perché dietro ci sono i boomers, la generazione più numerosa della storia che sta entrando tutta pian piano in questa fase di vecchiaia, tra virgolette. Dall'altra parte sempre meno bambini. Oggi il rapporto è 193 over 65 ogni 100 under 15, ma già tra meno di 30 anni sarà 300 over 65 ogni 100 under 15. Questo si riflette inevitabilmente sulla popolazione che è prevista in forte diminuzione. Oggi siamo a 58, quasi 59 milioni di persone, ma scenderemo a 45, 46 milioni di persone nel 2008. Ma evidentemente la forza lavoro, che è lo specchio della pancia della società, diminuisce allo stesso modo. Diminuisce in generale. Immaginate che se oggi abbiamo poco più di 37 milioni di potenziali lavoratori, poi in realtà ne lavorano solo 23. Questo è un dato molto particolare della situazione italiana, possiamo parlarne se credete. Nel 2050 scenderà questo bacino di potenziali lavoratori a 30 milioni e se tanto mi dà tanto, saranno 18 quelli effettivamente occupati, se non cambia niente. Potete immaginare che un paese con 18 milioni di lavoratori non ha prospettive né di produttività, né di innovazione, né di PIL sufficiente. E infatti molti stanno lanciando allarmi su una possibile riduzione del PIL per questa questione. Però all'interno della forza lavoro non c'è solo la diminuzione, c'è anche un diverso peso delle fasce d'età. Quindi la nostra forza lavoro sta invecchiando. Come peraltro, forse è giusto che sia, perché già in altri paesi europei i cosiddetti senior lavorano ampiamente, da noi sono ancora pochi quelli impiegati, però all'interno della forza lavoro, cioè dell'età lavorativa, ci si sposta anche lì verso l'età più mature. Tutto questo, corro un po' per questioni di tempo, ma ci sarebbe tanto da dire, tutto questo aggiunge alla necessità di pianificare una vita di cent'anni, quindi una vita con così tante fasi dentro di sviluppo di noi stessi, delle nostre ambizioni. Si aggiunge però la necessità di farlo all'interno di un paese che non è solo longevo, ma è anche anziano, quindi un paese che non fa più figli. Perché? Perché questa situazione di anzianità, di invecchiamento, esercita come abbiamo visto effetti sul totale della popolazione e sul rapporto tra chi lavora e chi va in pensione. È evidente che se da una parte aumentano i pensionati e dall'altra diminuiscono i lavoratori, qualche problemino nel nostro paese con un sistema previdenziale a ripartizione ce l'ha. Siamo a 1,4 lavoratori per ogni pensionato, lavoratori reali, non sto parlando di indice di anzianità che misura l'età di lavoro. Io misuro i reali lavoratori perché nel nostro paese non si può fare altrimenti, altrimenti è teoria pura. Quindi 1,4 lavoratori ogni pensionato ma saremo uno a uno tra meno di trent'anni. Questo porta al paese per non andare in default a fare continue riforme previdenziali, quindi aumenta l'età di pensionamento, quindi diminuisce l'entità dell'assegno pensionistico. Tutto questo invecchiamento del paese pesa sul sistema sanitario che a prescindere da una certa miopia lampante nella sua gestione nel tempo sta soffrendo anche di un peso della popolazione anziana fragile, basta entrare in un pronto soccorso per rendersene conto. Peggio ancora la long-term care perché se è vero che c'è una forse sotto, anzi senza forse, sotto finanziamento della sanità rispetto ad altri paesi europei con i quali ci confrontiamo e ne hanno parlato ai giornali proprio negli ultimi giorni, sul caregiving pubblico che avrebbe dovuto essere modificato con una legge e un relativo decreto attuativo, in realtà non è stato ancora modificato, restiamo a un investimento pari all'1.7% del PIL che è lo stesso di dieci anni fa ed è lo stesso che avremo tra vent'anni ma nel frattempo continuano a crescere le persone anziane e soprattutto i più anziani, gli over 80, crescono più in fretta degli over 65 in generale. Ecco perché diventa importante pianificare la propria esistenza in questo contesto perché non solo viviamo più a lungo ma viviamo più a lungo in un paese dove il welfare universale meraviglioso che abbiamo e che tanti paesi ci invidiano comincia a fare difficoltà a seguirci nella lunghezza della vita, nella tempestività delle cure e anche nel tipo di cure, ragione per cui per esempio l'assistenza agli anziani tende a ricadere sulle spalle delle famiglie, in particolare delle droghe. Dice una famosa professoressa di Stanford, il problema non è arrivare a cent'anni, è arrivarci con la mappa superata. Ecco perché noi abbiamo sviluppato un nostro modello di longevity planning che segue però già un esempio degli Stati Uniti dove il navigatore della longevità esiste da qualche decennio ed è l'evoluzione della figura del consulente patrimoniale. Come funziona il nostro modello? Presto detto, ha un obiettivo primario che è quello di aiutare chi fa il vostro lavoro a comprendere quali sono i patrimoni su cui si sviluppa la capacità, la sostenibilità di longevità dell'individuo, che sono sì prima di tutto finanziario, un rischio di longevità più diffuso nel mondo, cioè quando si dice longevity risk, si pensa a sopravvivere ai propri risparmi, soprattutto in un paese che ha scarsamente sfruttato il secondo pilastro della previdenza, quello complementare. Ma è anche un patrimonio di altre qualità intangibili, a capacità di invecchiare in buona salute, la volontà di guardare la propria casa non solo come asset patrimoniale, ma anche come un assist eventuale a una longevità in buone condizioni. Spesso le case del nostro ver 65 non lo sono per niente, sono case vecchie, troppo grandi, poco per niente efficienti dal punto di vista energetico, per il 56% senza ascensore, pensiamo ai nostri centri storici. Così il capitale umano, nella sua accezione finanziaria, ha come capacità di produrre il reddito da lavoro anche in età più avanzato e capitale sociale di cui sappiamo la rilevanza anche in termini di salute fisica e cognitive. Secondo grosso obiettivo, mappare i rischi, come dire, facendo pulizia anche con il cliente stesso, dai rischi controllabili e i rischi non controllabili. I rischi controllabili totalmente sono forse più semplici da spiegare. I rischi non controllabili è inutile spiegarli perché sono non controllabili per definizione, ma è sui rischi controllabili in parte che si deve fare un grosso esercizio di cultura, di educazione di tutti, dei clienti e dei cittadini, perché non siamo consapevoli di quanto potremmo noi stessi con piccoli interventi metterci, tutelarci da una serie di rischi. E poi naturalmente un'ultima osservazione sulla necessità di guardare con molta attenzione alla longevità di portafoglio, perché ancora si tende a considerare che la persona dopo i 60 anni anche in termini di investimenti debba mettere i remi in barca, ma se davanti a me a 60 anni o altri 25 forse è il caso di ripensare un po' anche a questa regola di base. Questo è quello che riesco a dirvi oggi in un tempo limitato, sono disponibile ad approfondire e rispondere a domande e Active Longevity Institute a fare quanto fosse necessario per aiutarvi. Grazie. Grazie a te Emanovella, è stato veramente interessante, ci hai dato una grossa panoramica su questo problema della longevità, che non è un problema ma un'opportunità in realtà per tutti. Hai detto tra l'altro anche questa frase capacità di invecchiare buona salute e questo mi dà l'asset per introdurre il secondo relatore, Simone Rogero, che è un medico, che oltre ad essere medico è anche impenditrice e ci parlerà appunto sulle innovazioni che la medicina può fare, quindi quali sono le nuove sfide per invecchiare in buona salute. Grazie. Buonasera a tutti, è una bella opportunità poter parlare da tanti punti di vista della longevità. Come diceva Michele, io sono medico, sono una pediatra e con una grande attenzione per la longevità oggi, mi occupo come imprenditrice di diagnostica di precisione e in questi dieci minuti vorrei parlare con voi di quelle che sono le sfide oggi che la medicina ha e sente di avere in maniera un po' diversa rispetto al passato nei confronti della longevità. Riuscire a far vivere a lungo per un medico, per qualunque medico, non è mai stato un problema, è sempre stato il traguardo. Se penso ai nostri congressi medici, ecco, il successo della terapia è aumentare la sopravvivenza e la medicina ci è riuscita soprattutto rispetto a grossi problemi della medicina che portavano a morti in età giovanile, morti importanti, acute, ecco, ci sono stati, che erano l'urgenza peraltro per il mondo della medicina, si sono fatti passi avanti con gli antibiotici, con i vaccini, con una grandissima fonte di conoscenza e terapia applicata in ambito di patologie che oggi si dominano con la terapia. Finché di fronte a soggetti più anziani è arrivato il tema di come gestire una persona che è anziana ma porta con sé anche delle malattie che hanno in realtà un grosso peso sia sulla qualità di vita della persona sia sulla qualità di vita di chi vive attorno a una persona che ha malattie croniche, cardiache, renali, che è disabile, che ha problemi cognitivi importanti dall'Alzheimer al Parkinson alle delizie e questo ha portato e porta oggi a nuove sfide per un medico che deve non soltanto far vivere a lungo ma far vivere bene e questo ha portato sempre di più ad un paradigma dalla e sta portando ad un paradigma che se fino a pochi anni fa era la cura oggi è la cura e la prevenzione. I numeri già li abbiamo sentiti ma credo siamo tutti consapevoli che la presenza di malattie croniche, cardiache, renali, timorali è diffudissima ed impatta. Quello che oggi i ricercatori e i medici stanno cercando di fare è proprio riportare dal punto di vista sia della ricerca sia degli interventi terapeutici ad un paradigma che sposta dal vivere a lungo al vivere bene. Quindi non soltanto più portare una persona ad avere 70, 80, 90 anni ma piena di malattie croniche con tante pillole da prendere dal mattino alla sera ma garantire iniziando per tempo una vita adeguata e dignitosa, un invecchiamento che diventi una condizione di vita e non una patologia. Non evite la pillola della longevità, già insomma ce lo possiamo dire, ma studiare la longevità ha permesso e sta permettendo alla medicina di capire molto meglio tanti meccanismi che in realtà stanno indirizzando la nuova medicina e la tecnologia a potenziare quello che già per natura è un meccanismo naturale che può permettere di invecchiare bene. Si sta studiando l'invecchiamento e la longevità da tanti punti di vista, da tante angolazioni, la multidisciplinarietà in questo momento è fondamentale e finalmente tanti specialisti diversi stanno parlando tra di loro per capire di più che cosa porta un organismo ad invecchiare. Oggi si sa molto di più come avviene l'invecchiamento, certi organi invecchiano prima di altri, quando inizia l'invecchiamento e questo permette di potenziare certe attività proprio, certi interventi terapeutici e preventivi all'età giusta rispetto a delle terapie molto mirate ma soprattutto si sa che naturalmente esistono dei processi che fingono a un cattivo invecchiamento e viceversa ci sono invece dei processi che proteggono dalle condizioni più negative dell'invecchiare. Ed è proprio un bilanciamento di questi due sistemi che porta a quello che è l'invecchiamento, diciamo così, in salute. che cosa sta cercando di fare oggi la medicina? Sta cercando, con interventi terapeutici soprattutto, di potenziare quelli che sono dei fattori naturali che proteggono dal cattivo invecchiamento. sentiamo parlare di stress ossidativo, sentiamo parlare di energia, di turnover mitocondriale. Ecco, si sta con gli interventi cercando di aiutare sempre di più quelli che sono condizioni naturali che favoriscono in maniera positiva il processo e viceversa si cerca di ridurre al massimo invece i danni che accelerano l'invecchiamento negativo e quindi che porterebbero a quella condizione in cui la qualità di vita e la presenza invece di danni o malattie croniche diventa più pesante rispetto al giusto equilibrio. Siamo programmati per invecchiare bene? Sì o no? Questa è una domanda importante che forse è una delle prime parlando di senescenza che la medicina si è posta e che ha una risposta positiva oggi perché ci permette di capire che in realtà l'invecchiamento può essere controllato e anche diciamo così gestito. Medici, ricercatori, la nostra comunità medica ha studiato e penso che insomma sia notizia nota, ambiti di popolazione in cui si invecchia molto, ci sono famiglie particolarmente longeve che vivono più a lunghe di altre, soprattutto in certi ambiti, in certe geografie, la Sardegna, certe isole greche, il Giappone e questi studi lunghi, molto finanziati e in cui in un certo senso è stata messa proprio in pratica la diagnostica di precisione, hanno evidenziato quella che diceva una buona notizia, la genetica influisce per meno del 20-25% in realtà sul processo della senescenza. Ci sono molti fattori che dipendono da noi, che sono quindi acquisiti e sono legati allo stile di vita e all'ambiente in particolare, che possono cambiare il processo dell'invecchiamento e su questi vale la pena investire. Oggi sempre di più la medicina della longevità punta su quello che è proprio lo stile di vita, quindi l'attività fisica, l'alimentazione, la corretta gestione del sonno, che è importantissima in questa parte particolare del processo di senescenza e poi la socialità, insieme al mettere da parte invece degli fattori come sicuramente il fumo che influiscono, ormai si sa, negativamente su quello che è il processo dell'invecchiamento. Pensate che una persona di 70 anni oggi arriva ad avere il 50% di probabilità ad arrivare ai 90 anni in buone condizioni laddove non esistono dei fattori di rischio tra quelli che citevamo prima, quindi l'obesità, gli abete, l'ipertensione. La mancanza di questi fattori che sono tutti acquisiti e gestibili permette una buona probabilità di invecchiamento sano e allora è questo l'ambito su cui la medicina, anche proprio dal punto di vista applicativo, sta assolutamente muovendosi nel creare sempre di più delle situazioni in cui la gestione della longevità significa mettere insieme in maniera multidisciplinare sia la valutazione classica, fisiologica del corpo, quindi il peso, della pressione arteriosa, del rischio di diabete, sia la spinta e la valutazione delle condizioni più, diciamo così, proprio psicofiliche dell'individuo, sia informando e gestendo quella che è una buona qualità di vita a partire da appena si può, da una condizione di età adulta. Tutto questo oggi è noto per dare degli ottimi risultati in termini di permettere di arrivare ad una età adulta e poi anziana in buona salute. Un mese fa c'è stato a Milano uno dei primi eventi che ha messo insieme a livello internazionale 60 scienziati che in tutto il mondo stanno studiando questi meccanismi per la siniscenza e la longevità. Insieme hanno parlato, hanno parlato in maniera molto semplice, comunicativa, a un pubblico molto vasto di persone interessate a gestire la propria salute e il proprio futuro, il proprio invecchiamento in maniera sana. Il messaggio che mi è venuto fuori è che l'obiettivo della comunità scientifica sicuramente è appunto quello ormai di far invecchiare il benessere, quindi qualità di vita, trasmettendo, lasciatemi dire, educando, informando molto, sin dalle più giovani età, su quello che è il buon stile di vita che porta e che porterà al migliore andamento proprio in questo senso. E l'immagine, l'idea della longevità ormai appunto dal punto di vista medico è quello di una strada in cui non si tratta più oggi di aggiungere anni, ma aggiungere qualità di vita, con probabilmente nuovi interventi terapeutici, ma soprattutto con una migliore targettizzata conoscenza delle persone che si vanno ad accompagnare verso una condizione sicuramente migliore di alcuni anni fa. Ho pensato di insomma dare intanto lo spunto molto più generale dell'orientamento verso cui noi stiamo andando con ottimismo e anche con una visione che sta diventando molto punto più concreta. Vi ringrazio. Grazie Simona e grazie anche per esserti collegata poi da Amsterdam, quindi grazie di questo. Prima di passare al prossimo relatore, volevo fare un invito a tutte le persone che ci seguono, che possono già nella chat eventualmente proporre delle domande e se hanno una domanda specifica per un relatore, indicare chi la vogliono fare. Grazie. Simona ha parlato di una spinta psicofisica e questo ci permette di introdurre la nostra nuova relatrice, Emanuella Barreri, che è psicologa del lavoro e che ci parlerà proprio sul benessere psicofisico legato anche al benessere finanziario. A te la parola. Grazie, spero mi sentiate. Allora, devo condividere le slide. Ecco, le vedete? Credo di sì. Sì. Ok. Allora, grazie. Sì, io devo dire come ha anticipato il nostro presidente Luca Svizio, sono sì, dottore commercialista, ma anche psicologa del lavoro e quindi mi fa molto piacere poter parlare di questo tema perché mette insieme, diciamo, un po' i due aspetti, no, della mia formazione e del mio attuale lavoro, che è appunto l'aspetto economico-finanziario con l'aspetto psicologico. Perché? Perché benessere finanziario e benessere psicofisico possono sembrare molto lontani tra di loro, ma in realtà sono molto connessi, perché si influenzano reciprocamente. Allora, a me piace molto questo tema perché, diciamo, nella mia nella mia vita lavorativa ho potuto veramente osservare tante persone e anche il rapporto di queste persone col denaro, con i soldi e anche, diciamo, gli effetti sulla psiche di questo rapporto e credo che sia innanzitutto importante averne consapevolezza, cioè noi siamo sempre abituati magari a parlare di una certa cosa, ma di non pensare alle influenze che ci sono tra questi aspetti. Quindi il primo punto che vorrei sottolineare è proprio questo, provare a pensare e fermarci a pensare qual è il nostro rapporto col denaro e con i soldi. Perché volevo appunto esplorare, provare a esplorare il perché magari non si parla di questo tema, perché qui se ne sta parlando, ma non è così frequente parlarne e non è neanche così frequente che le persone pensino appunto al loro futuro, a questo bellissimo futuro che possiamo avere e nello stesso tempo però ad avere un futuro in cui si stia bene finiseriamente. Allora, quali sono i temi? I temi sono un po' e le resistenze legate al fatto che non sempre, anzi spesso, non abbiamo voglia di parlare di denaro. Di denaro non è un argomento di cui si parla volentieri. Freud diceva che è un qualcosa di sporco, no? Le questioni di denaro vengono trattato spesso come questioni sessuali, con falsi pudori, con ipocrisia. Ecco, siamo magari abituati a parlare del denaro degli altri, ma la consapevolezza della slide precedente spesso noi non la evitiamo. Questo perché culturalmente non diciamo volentieri quanto guadagniamo, talvolta ci vergogniamo sia se guadagniamo poco, sia se guadagniamo tanto. Molto spesso ancora oggi nei colloqui di lavoro non si chiede né il compenso o spesso anche i professionisti non sono così diciamo solerti nello stabilire un compenso. È un tema di cui non abbiamo voglia di parlarne. Nello stesso tempo anche a livello proprio educativo, a scuola non ci viene insegnato a gestire il denaro, no? C'è questa ritrosia, diciamo, legata a questo aspetto che comunque ha un'importanza fondamentale. Questo perché il denaro ci muove delle emozioni, no? Come ho detto prima, per Freud è un qualcosa che è sporco. Effettivamente mi sono un po' interrogata su quali sono le emozioni che sono legate al denaro e tre tra le emozioni diciamo così negative, poi adesso non voglio entrare nello specifico ma è proprio un po' insieme a voi cercare di affrontare questi argomenti. Ecco, le emozioni che spesso sono legate al denaro sono appunto l'imbarazzo, la difficoltà, come ho già detto, se è giusto chiedere il denaro, la fatica, talvolta diventiamo magari insicuri o aggressivi e poi c'è il tema della vergogna, sono parole un po' forti ma sono queste le emozioni legate a questo tema e quindi c'è il tema di trasgredire magari delle regole, ci si può sentire inadeguati, disonerati, sono temi forti, temi forti legati al denaro e quindi legato al denaro ci possono essere tutta una serie di fatiche che solitamente vengono definite in ansia e in stress. Quindi tutto questo magari scappare da questo tema può far sì che nascano problemi finanziari, quindi sicuramente è molto importante un webinar, un incontro come quello di oggi perché l'ansia e lo stress sono veramente molto frequenti. C'è un motivo, c'è un motivo perché noi, il nostro essere umani è legata alla vita, cioè per noi la vita è quello che viene prima di tutto e noi quindi leghiamo il denaro all'acquisto del cibo, ai vestiti, alle vari figli, quindi questa ansia che spesso c'è quando ci sono problemi finanziari è del tutto naturale perché proprio a livello inconscio legando il denaro alla vita ci possono essere questi questi problemi e quindi se non c'è denaro dobbiamo assolutamente gestire un'insicurezza, un'insicurezza che non ci fa stare bene e insicurezza finanziaria quindi a questo punto soprattutto nella longevità se non c'è questa sicurezza c'è proprio il rischio di avere anche delle ripercussioni sul nostro fisico quindi ci può essere depressione, disturbi d'ansia fino ad andare a dei disturbi fisici quali disturbi del sonno, mal di siena, mal di stomaco, noi siamo fatti di psiche e di corpo come c'è una connessione con la slide iniziale tra benessere finanziario e benessere psicofisico c'è una connessione tra il nostro corpo e la nostra psiche per cui oltre a tutti i motivi che sono stati detti in precedenza sul perché pensare al nostro futuro, alla nostra vecchiaia in termini di possibilità positive a me viene proprio da dire che è un dovere per poter star bene anche psichicamente perché l'insicurezza finanziaria ci può portare queste problematiche. Un altro tema che secondo me è molto importante è quello delle relazioni. Pensate quanto una difficoltà finanziaria può influire sulle relazioni tra le persone. Ci sono relazioni che magari funzionano benissimo ma anche qui credo che ciascuno di noi, ciascuno di voi possa portare dei casi dove il tema di non aver pensato diciamo a questi aspetti abbia poi causato delle situazioni finanziarie mentre delle situazioni finanziarie o meglio delle situazioni relazionali di crisi e di conflitto. Allo stesso tempo invece se diciamo gli aspetti economici cofinanziari funzionano spesso le relazioni sono almeno sotto questo aspetto funzionanti e soddisfacenti. Inoltre del denaro e questo era nella locandina ma magari ci sarà qualcuno che ne parlerà dopo è stato accennato in precedenza è chiaro che ci dà maggiore libertà, maggiore libertà e maggiore tempo libero. C'è sicuramente la possibilità se si è tranquilli finanziariamente, quindi cambio l'aggettivo, non l'incertezza finanziaria, non la sofferenza finanziaria ma la tranquillità finanziaria ci dà la possibilità di vivere meglio e quindi di ehm ridurre quell'ansia, quello stress e migliorare il nostro benessere psicofisico complessivo. Quindi c'è proprio un ribaltamento del del tema. E adesso vengo alle cose positive ehm pensare e pianificare il proprio futuro ci dà invece tutta una serie di ehm possibilità di di sviluppo di ehm emozioni e e anche qui sono andata a cercare quali sono invece le emozioni positive se riusciamo a cambiare questo questo modo di di vedere il denaro che sono la serenità, la felicità, la soddisfazione, noi ci sentiamo soddisfatti se ehm riusciamo a pianificare e riusciamo diciamo a essere tranquilli sotto questi aspetti. L'orgoglio c'è anche il tema di ehm sentirsi orgogliosi di quello che si è fatto. Tranquillità è la parola che ho utilizzato prima e che secondo me è quella che eh dà maggiore stabilità e dà maggiore appunto sicurezza ma proprio tranquillità. Poi c'è il tema della gratitudine. Spesso nella nella fase di vita anziana ehm io trovo che eh coltivare la gratitudine sia uno degli aspetti forse più più importanti perché sono anni di restituzione, sono anni che ehm se eh appunto li li possiamo vivere con tranquillità ci consentono di ehm trasferire ad altri e quindi con un senso di di gratitudine poter ehm restituire e dare ad altri magari un valore che abbiamo creato. La premessa è però appunto che ehm siamo riusciti a ad avere una tranquillità finanziaria perché altrimenti la nostra mente viene assorbita da altri problemi. E poi il tema dell'autostima e della fiducia perché un un successo finanziario, un essere tranquilli finanziariamente sicuramente ci eh può aiutare a ad essere più fiduciosi in noi stessi, a migliorare un'autostima e soprattutto a stare meglio. Ehm questo è ancora più importante in età adulta perché eh diciamo con l'età adulta si è un po' più inclini alla depressione, si è un po' inclini appunto a a non coltivare questi eh pensieri, queste emozioni positive. Per cui se invece noi riusciamo a sistemare questa parte finanziaria possiamo se non altro ehm combattere anche un po' se se si avessimo invece delle spinte più depressive. E quindi dirvi eh il mio il mio invito è proprio a prenderci cura del denaro e quindi a prenderci cura del nostro futuro come ci prendiamo cura di noi stessi oggi del corpo e della psiche quindi il concetto è pensare prima per per un futuro in cui si sta bene. È importante allenarci a questa consapevolezza perché ehm il denaro può sicuramente dare del benessere. È vero che nel pensiero comune ehm non è solo il denaro che dà la felicità però a mio parere sicuramente se ce n'è è più probabile che ci sia felicità quindi direi che è è un tema mh insomma è bello poter dire che non è solo il denaro ma se c'è un livello invece di di serenità e di tranquillità soprattutto nell'età anziana da lì in poi è tutto molto più facile. E poi ho trovato in rete questa frase è vero che Socrate non aveva scritto quindi non sono così sicura che sia sua ma non avendo scritto molto probabilmente lo può essere e quindi vi ascio questa frase non c'è nulla di sbagliato nel desiderare la ricchezza quindi non c'è veramente nulla di sbagliato nel pianificare una una tranquillità finanziaria. Certo la colpa è nell'avidità o in un desiderio insaziabile di denaro ma qui stiamo invece solo e semplicemente pensando a una tranquillità finanziaria che ci consenta di stare bene. grazie devo però riuscire a chiudere in un qualche modo. Grazie veramente di questo bel intervento proprio che ci fa rivedere un attimo il denaro. Prendo sempre una sola anche una tua frase che dici si è soddisfatti se riusciamo a pianificare e questo ci permette proprio di entrare nel nuovo tema con la dottoressa Sassoncini proprio sull'importanza di pianificare il proprio patrimonio. Che vi lascio la parola ad Emanuela. Grazie, grazie. Siamo numerose Emanuela oggi mi fa piacere. Grazie migliore agli organizzatori ovviamente. Grazie ai relatori che mi hanno preceduto perché mi hanno confermato ecco l'idea della multidisciplinarietà di questo tema. Io vi voglio portare un po' la mia esperienza. Io sono responsabile del Wealth Advisory. Intanto Michele condividerei le slide se riesco. Ok. Perfetto. Spero che le vediate. Dovresti solo forse mettere la pagina intera così le vediamo meglio. Le vedete adesso? In parte come ne vedevamo prima se riesci proprio a mettere la pagina intera sarebbe la cosa migliore. Che non è facilissimo ma come proviamo a fare? Così? Può essere? Va già meglio. Perfetto. Allora sì mi spiace che non è il tool che usiamo e quindi sono un po' inesperta. Intanto grazie davvero e grazie anche per gli interventi che mi hanno preceduto. Sono veramente stati molto interessanti e evidentemente anche hanno introdotto un quello che volevo portare della mia esperienza appunto come responsabile del team di Wealth Advisory in Unicredit Private Banking e Wealth Management. Volevo partire da una provocazione anzi due o tre domande provocatorie così volevo un po' rompere il ghiaccio su questo tema della pianificazione. Allora vi ho portato alcuni dati presi dalla Consob in particolare da questo quaderno che è stato fatto un paio di anni fa non credo rinnovato come numeri ma insomma molto indicativo sull'attitudine della pianificazione finanziaria delle famiglie italiane. Allora proviamo a leggere insieme questo questi risultati che poi ovviamente riguardano un campione limitato ma insomma anche nella mia esperienza abbastanza diciamo generalizzabile come concetto. Allora partiamo dalla terza riga che è il concetto di risparmio. Allora vediamo che in media dal 2019 al 2021 il 38 per cento quindi diciamo più di un italiano su tre attua quello che è un processo di risparmio che se consideriamo che cosa ci dice la letteratura il risparmio è il reddito no? È la differenza tra il reddito di un soggetto meno i consumi no? E questo è il risparmio. Se mettiamo insieme tutti diciamo i risparmi delle famiglie italiane nel corso del tempo ecco arriviamo a un po' quello che Banca d'Italia ci dice, ci ha detto all'inizio dell'anno che più o meno i risparmi italiani, il patrimonio degli italiani risparmiato è circa 10 mila miliardi di cui 65 per cento in beni reali no? Quindi prevalentemente in immobili. Questa è un po' la ricchezza ed è quello che si dice un po' il contraltare del forte indebitamento che abbiamo come sistema paese bilanciato dal nostro risparmio. ebbene diciamo questo è un processo quindi che è avvenuto in modo naturale ma solo per il 22 per cento passo alla riga alla seconda riga quindi alla riga di sopra quindi diciamo all'incirca un italiano su cinque fa un processo di budgeting che se qualcuno ha visto il film della Cortellesi di Natale c'è ancora domani era quello che veniva detto nella copia diciamo i conti della serva abbiamo un tot di spese da fare questo è il nostro reddito possiamo mettervi ecco i cosiddetti conti della serva un italiano su cinque poco più fa i conti della serva chi invece fa un vero e proprio financial plan quindi un processo di pianificazione patrimoniale che tenga conto anche degli obiettivi di vita e metta un po' in conto i rischi l'evoluzione tutto quello che succede che può succedere nella nel corso della vita di una famiglia è l'otto per cento di media quindi meno di un italiano su dieci bene questo è un po' il dato di partenza è un po' la provocazione quello che la mia esperienza un po' vi porto la mia esperienza che cosa qual è l'elemento che di solito attiva la pianificazione nelle famiglie allora così penso di generalizzare di dire cose molto scontate ma ecco più o meno di solito quello che porta a cambiare a decidere no di pianificare di sedersi al tavolo no con con i professionisti con noi con le banche con ecco tutti gli interlocutori o una mobilità geografica intendo dire cambio paese quindi devo un po' ridefinire la mia ricchezza la mia struttura i miei bisogni un cambiamento forte normativo quindi viene introdotto una nuova imposta c'è un'opportunità di un'imposta di qualunque tipo di normativa oppure un cambiamento forte in una situazione familiare quindi quella la prima domanda che vi faccio è se secondo voi il la longevity è un attivatore della pianificazione è qualche cosa che stimola a prendere in mano un po' no la propria ricchezza il proprio patrimonio o i propri risparmi e decidere un po' di metterla sulla linea del tempo e dandosi un piano no dandosi un programma e la seconda domanda provocatoria è nella longevity in questo tema che sta andando un po' trasversalmente nei dialoghi di questa sera qual è il momento giusto per pianificare il patrimonio ecco allora faccio un passettino avanti e vi dico quella che è diciamo nella nostra attività un concetto di corretta pianificazione patrimoniale poi qualcuno ne prende un pezzettino qualcuno fa tutto il processo dall'inizio alla fine qualcuno lo fa due o tre volte nella vita qualcuno una qualcuno tutti gli anni ecco questo è veramente variabile quello che io dico è così come le aziende pianificano fanno il budget e il consuntivo tutti gli anni forse anche le famiglie forse non tutti gli anni ma insomma con una certa periodicità potrebbero approcciare questo processo che processo che parte come vedete da sinistra con la mappatura del patrimonio in tutte le sue variabili sia nella struttura del patrimonio sia finanziari o meno la situazione della famiglia complessivamente di origine che si sta allargando più o meno determinando in un valore vedendo anche il conto economico perché si parla sempre di patrimonio ma è importantissimo anche il cash flow come ci hanno detto i relatori che mi hanno preceduto e il contesto normativo perché evidentemente può essere sempre qualche cosa che sia in ambito diciamo civilistico per quanto riguarda i temi legati alla famiglia per quanto riguarda le successioni per quanto riguarda la fiscalità ma anche la previdenza può subire delle evoluzioni l'altro aspetto sono gli obiettivi nessun processo di pianificazione si può dire tale se non si definiscono degli obiettivi chiari le aspirazioni le preoccupazioni il il benessere le esigenze della famiglia l'evoluzione della famiglia e un po gli interlocutori che possono aiutare a creare questo progetto ma altrettanto indispensabile in un progetto di pianificazione che si definisca tale è anche un'analisi dei rischi anche qua mi ripeto rispetto alle colleghe precedenti ma sicuramente valutare tutte le connessioni di rischio diciamo calcolabile programma prevedibile ecco imprevedibile imponderabile sia legata alla struttura del patrimonio una per tutti la diversificazione anche geografica anche di asset class no abbiamo parlato di famiglie italiane che hanno 65 per cento di asset reali e il restante di asset finanziari e così via connessi alla professione connessi alla struttura della famiglia ecco e poi c'è un vero percorso di pianificazione patrimoniale torno un attimo al dati che vi davo prima e e vado avanti un po' con le provocazioni io credo che inconsciamente tutti noi a pezzi a piccoli diciamo spiragli pianifichiamo un po' in modo destrutturato ce lo dice per esempio un dato molto importante sempre di fotografia della ricchezza italiana che è il dato di quanto risparmio è conservato sui conti correnti e sui depositi che è all'incirca un terzo della ricchezza finanziaria quindi parliamo di circa 1500 1600 miliardi depositati nei conti correnti un po' per come dicevamo incapacità forse culturale di capire la struttura degli investimenti eccetera ma sempre anche in ottica di protezione quindi la protezione del patrimonio attraverso la più semplice degli strumenti che la gestione per qualunque venienza di un piccolo grande conto è diciamo uno strumento se vogliamo inappropriato ma comunque presente nelle famiglie degli italiani di pianificazione e di protezione quindi la pianificazione è la definizione di un vero e proprio piano operativo no un piano operativo che tenga conto degli obiettivi dei rischi e di come è fatta la famiglia allora vi ho elencato tantissimi angoli con cui può essere fatto questo piano operativo da un'analisi del cash flow e poi vedremo magari nella longevity quanto diventa importante poter contare probabilmente su un cash flow incrementale venendo meno una componente di diciamo reddito connesso al lavoro e maggiori esigenze di assistenza e di tutela della delle esigenze proprio anche sanitarie di assistenza un programma di investimento ecco è sempre auspicabile tenuto conto appunto della grandissima ricchezza conservata sui conti correnti invece cercare di compiere qualche scelta di portafoglio o di investimento che guardi un po' se possibile a lungo periodo la protezione e quindi tutti gli strumenti anche assicurativi che possano tutelare il patrimonio da venti imprevedibili inaspettati purtroppo che vediamo invece continuamente la pianificazione del patrimonio immobiliare collezionistico che magari durante la vita nel corso dell'accumulo della ricchezza viene fatto diciamo in modo tempo per tempo in base alle esigenze ma magari poi diventa qualcosa di significativo o magari veramente di destrutturato da pianificare la parte di finanziamento quindi il quanto mi indebito per che cosa i mutui per la casa per le seconde case ecco tutto quello che è connesso alla parte di finanziamento la parte previdenziale di retirement la parte dei figli quindi quanto pianifichiamo nella formazione mi raccomando sempre anche finanziaria dei figli la pianificazione della trasmissione del patrimonio la parte di pianificazione filantropica sia un obiettivo della famiglia e l'elder che il planning che è quello di cui ci stiamo occupando vado a chiudere raccontandovi un po' come il nostro gruppo di wealth advisor il nostro gruppo di lavoro che si occupa di consulenza ha pensato di dare risposta a questo tema della longeviti abbiamo proprio creato più o meno un anno e mezzo fa un gruppo di lavoro che ha prima di tutto ascoltato anche i relatori che mi hanno preceduto ma insomma tutto l'autorevoli diciamo comunità scientifica accademica che si sta occupando del tema ma poi come sempre abbiamo ascoltato tantissimo i nostri clienti e le famiglie di cui ci occupiamo e poi abbiamo guardato quello che abbiamo in casa abbiamo guardato un po' il nostro modello di servizio nelle nostre soluzioni per vedere come rispetto ai bisogni possiamo offrire consulenza. Allora voglio un attimo venire a rispondere nella mia esperienza alla domanda se e quando la longeviti è un attivatore di pianificazione patrimoniale e a mio parere lo è sempre no? Se sono se sono veri come sono veri i dati che ci hanno raccontato all'inizio non si può non mettere tra i diciamo l'ottica con cui dobbiamo pianificare il patrimonio l'allungamento della vita e l'allargamento della famiglia e i bisogni connesse la terza e le quarta età non possiamo non metterli quindi è un esercizio da fare sì è un attivatore sicuramente sì in particolare se la famiglia inizia a avere soggetti che mostrano anche fragilità connessi a questi aspetti quando va fatto ve l'ho già detto prima ecco per me è un esercizio da fare costantemente e continuamente. Che cosa ci dicono i clienti quando si vedono affacciare una diciamo uno scavallamento di quella età di cui parlavamo dove si devono gestire appunto necessità diverse allora in prima battuta ci parlo di semplificazione come vi dicevo un patrimonio che si accumula magari in modo destrutturato spesso ha bisogno di semplificazione anche per essere condiviso all'interno della famiglia abbiamo visto la regina e insomma fortunatamente non tutti sono regnanti e quindi possono iniziare a condividere titolarità e responsabilità del patrimonio ci sono i rischi di non autosufficienza di incapacità sia in assenza che in presenza di familiari e a volte il problema viene già posto dai familiari ci viene rappresentato dai familiari e a volte ci viene rappresentato da chi si pone la necessità di capire come gestire questo eventuale rischio si parla di pianificazione di trasmissione del patrimonio la classica pianificazione successori a favore dei familiari e non si parla del spesso del venire meno della possibile venire meno anticipato rispetto agli altri di chi si occupa del patrimonio di chi conosce il patrimonio di chi conosce la gestione del patrimonio e si rende conto che in sua assenza insomma già ricostruire la gestione può essere difficile e soprattutto perché alcuni soggetti magari fragili magari i coniugi che non si sono mai occupati del patrimonio possono avere bisogno di una affiancamente di un supporto si parla di appunto familiari deboli anche con fragilità diciamo fisico cognitive si parla di qualcuno che possa intervenire in caso di assenza temporanea o continuativa a semplicemente mettere delle firme sui conti in banca per darci disposizioni di trasferimento quali sono le cose che invece noi possiamo riscontrare ecco rispetto a queste esigenze che ci vengono rappresentate e in primo luogo la mappatura ecco un momento per sedersi per capire per analizzare sicuramente fa parte della nostra attività così come capire quanto cash flow quanto rendimento si può ottenere da quel proprio patrimonio l'altro aspetto è vedere quanti soggetti vogliono continuare ad occuparsi direttamente di questo patrimonio facendo delle scelte autonome attive consapevoli e quanto invece vogliono progressivamente una gestione del patrimonio finanziario in delega e quindi diciamo con delle linee guida con dei benchmark ma che poi progressivamente vengano delegati agli intermediari un altro tema è sicuramente la razionalizzazione del patrimonio quindi scegliere fare delle scelte di dismissione di magari anche di creazione di veicoli per organizzare meglio il patrimonio sia immobiliare sia collezionistico una razionalizzazione per consentire anche alla famiglia di condividere questo patrimonio per quanto riguardano gli aspetti delle deleghe insomma del supporto di soggetti che possono aiutare i nostri clienti alla gestione del patrimonio oltre le procure generali le classiche deleghe sui conti bancari abbiamo anche la possibilità di indirizzare ecco verso la scelta della amministrazione della designazione anticipata dell'amministratore di sostegno così come le disposizioni anticipate di trattamento ecco nel caso appunto di esigenze particolari o tutta la nostra attività che facciamo come gruppo sul sull'attività di trust in particolare sui trust di autotutela che permettano di vincolare segregare il patrimonio dando precisi istruzioni a noi in particolare alla nostra fiduciaria per mantenere assistere supportare la famiglia appunto in caso di incapacità e questo è uno strumento molto potente che ci serve per strutturare al meglio la necessità di supporto in caso proprio di incapacità e di non autosufficienza connessa alla longevity. Aiutiamo i clienti a realizzare progetti filantropici oppure trust dopo di noi per l'assistenza ai familiari fragili in caso di mancanza di genitori e tutti ovviamente gli strumenti di pianificazione successoria che possano essere disponibili nell'offerta finanziaria e bancaria a partire dalle polizze, i mandati fiduciari che sono degli strumenti potentissimi per esempio molto utili quando il rischio delle famiglie è che diciamo le persone più senior che iniziano un po' ad essere meno autonomi e possano essere in qualche modo strumentalmente diciamo indirizzati in movimenti bancari in bonifici nei confronti di terzi di cui non hanno pienamente la consapevolezza ecco il mandato fiduciario è uno strumento potente perché non sono consentiti all'interno del mandato movimenti nei confronti di terzi soggetti ma solo movimenti nei confronti dello stesso fiduciante quindi incapsulare il patrimonio in un mandato fiduciario è utilissimo per non togliere la proprietà al soggetto che magari può essere sollecitato da vari fronti ma comunque lasciargli la piena titolarità ma impedire movimenti e trasferimenti presso terzi e in ultima battuta tutto il mondo delle polizze assicurative di protezione siano temporanee caso morte long time care o polizze salute che consentono appunto di supportare quel cash flow o quelle esigenze di di cassa connesse all'assistenza di cui magari il patrimonio potrebbe essere depauperato e che potrebbe non essere sufficiente per affrontare appunto la terza e la quarta età bene io ho terminato la mia parte michele chiudo la condivisione ringrazio molto è molto interessante quello che hai delineato e passo a mario romano che ha un tema molto interessante perché finora abbiamo sempre parlato di pianificazione e quindi di tempo invece il titolo è veramente curioso e stimolante investimenti senza tempo sei butto forse attivate solo l'audio per favore mario smuto romano per cortesia non trovo più il tasto buonasera a tutti sì ma allora se ho provato non abbiamo condiviso prima tutte le presentazioni di tutti i relatori quindi era molto complicato cercare di non essere visto che ero anche l'ultimo ripetitivo quindi mi scuserete in anticipo se farò qualcosa dirò cose che sono già state dette però mi immaginavo che il tema della pianificazione che la collega la persona che mi ha preceduto ha affrontato con dovizia di particolari con lungo elenco fosse uno dei modi per intercettare questo argomento come entrare nell'argomento della longevità come entrare nel tema più grande ancora che qualcuno all'inizio ha trattato cioè quello del cambiamento demografico che è il vero grande trend che dobbiamo cercare di di analizzare però chi fa il nostro mestiere io mi occupo di gestione del di fondi facciamo gestione del risparmio abbiamo negli ultimi anni imparato a considerare questo argomento dal punto di vista delle opportunità che forniscono n società che intercettano tutte queste esigenze che sono state raccontate molto bene prima di me e quindi diventano per noi che facciamo un mestiere che è quello di allocare denaro di altri ovviamente anche il nostro cercare di trovare quali sono le società quali sono gli ambiti che godono di questo cambiamento straordinario che abbiamo visto è stato descritto benissimo prima di me quindi provo a fare un po' entrare un po' più nello specifico quindi la longevità per noi è da vedere in due modi quindi come opportunità di investimento e come soluzioni nuove da cercare ma ecco di questo si è già un po' parlato prima ma vediamo se c'è qualcosa da aggiungere a fine della mia presentazione allora tema demografico dicevo è quello che secondo noi è il tema centrale che è stato in qualche modo affrontato negli ultimi anni da chi come noi chi si occupa di gestione del risparmio società internazionali che hanno letto il cambiamento demografico che vedete è molto evidente cosa stia succedendo c'è l'aumento della popolazione inarrestabile questo cento per cento che vediamo lì ci dice che in realtà in questo secolo la popolazione umana raddoppierà sta raddoppiando siamo protagonisti di questo di questo grande cambiamento questo cambiamento di popolazione in realtà questa crescita della popolazione ha un effetto che è quello di spostare un po' il baricentro del mondo cioè come se noi mettessimo appunto tutte le persone che vivono e vedremo che la maggior parte si sposta ed era già così verso Asia verso l'Asia ma ancora di più si sta spostando verso questo verso quello e questo continente i flussi migratori di fatto fanno poco quindi sappiamo che ci sono c'è una tendenza a spostarsi io qui l'ho descritta dicendo i flussi migratori vanno verso nord ovest e cioè sappiamo le popolazioni più povere dell'Africa soprattutto del Sud America si spostano verso il nord o verso punto l'Ovest quindi verso l'America verso l'Europa se arrivano dalla parte meglio orientale eccetera ma sappiamo che anche i temi geopolitici stanno spingendo in questa direzione però invece se guardiamo la mera demografia sappiamo che la crescita è in Asia sappiamo che la crescita in Asia in maniera prorompente perché il tasso di natalità lì è decisamente più alto di quello che viviamo nel mondo occidentale qui ovviamente c'è un tema di evidente conseguenza di impatto dei consumi di tutti noi perché non è soltanto poi magari ne parliamo perché quello un po' più diciamo avvincente dal punto di vista nostro di investitori però se guardiamo il tema vero è quello della carenza di di risorse base no pensiamo al tema del cibo e quindi anche qui ne vengono fuori una serie di di idee di investimento che noi nel nel mondo del spermio gestito abbiamo in questi anni considerato e valutato però per esempio il tema dell'acqua su questo si sono se ne è parlato anche con con Michele qualche un anno fa circa avevamo fatto un approfondimento su questo argomento perché l'acqua è la risorsa più più semplice che conosciamo tutti ma quella più difficile poi da 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 conservare più difficile da proteggere e gli impatti sul sulla gestione dell'acqua sono impatti enormi e poi come vedete in questi ultimi anni c'è una diversa desertificazione del nord del del mondo e poi vediamo in questi giorni inondazioni in posti dove dovrebbe esserci deserto quindi è veramente un cambio epocale che però incide ovviamente sulle nostre necessità ovviamente c'è il tema dell'energia e quello che conosciamo forse da più da più tempo e che quindi impatta anche sulle trasformazioni dei processi produttivi sulla trasformazione sulla transizione energetica intesa come ricerca di nuove fonti proprio perché il mondo cresce il mondo ha una quantità finita di una serie di materie prime dobbiamo cercare delle forme alternative che riescano a rigenerarsi perché dobbiamo poi dare energia a tutto questo mondo che sta crescendo in termini di quantità un altro elemento fondamentale e che di nuovo torna sul a intersecarsi col tema geografico e questo della crescita della classe media la classe media sta crescendo cioè le persone che hanno disposizione del denaro da spendere da investire e in crescita costante e anche qui assistiamo alla stessa alla stessa dinamica di movimento cioè nel senso che la gran parte della classe media si posizionerà in asia nei prossimi anni già adesso e questo sta cambiando completamente le i sistemi le linee produttive gli obiettivi di produzione di una serie di società io qui l'ho descritto in maniera molto semplice cioè pensiamo alla telefonia pensiamo alla moda ecco la moda a gran parte dello sbocco cioè le grandi società di che producono moda che producono grandi marchi no che sono tipicamente li conosciamo italiani europei in generale più che altro hanno sede legale in francia ma insomma sappiamo che molti sono di origine italiana c'è un pezzo d'italia molto forte ecco dove vendono queste queste società vendono soprattutto in asia ma anche la loro produzione sta cambiando perché fanno riferimento ad un pubblico diverso da quello che avevano qualche anno fa non è più l'italiano non è più l'europeo non è più il nord americano che compra è ancora ovviamente un target ma visto che la proporzionalmente sta crescendo molto di più in asia sta cambiando anche gli stili sta cambiando anche ovviamente chi produce quindi sta cambiando gli stilisti perché vogliono essere più vicini a quel tipo di di esigenza poi sappiamo l'e-commerce nel senso che tutta la tecnologia e tutte le vendite attraverso l'online stanno crescendo sempre di più ma qui di nuovo l'asia fa la parte del padrone perché perché appunto la crescita demografica e la maggiore presenza numerica di utilizzatori della tecnologia è proprio da quelle parti perché forse si è fatto un salto non si è passato attraverso tutti gli diciamo la scala di evoluzione che abbiamo noi in occidente si è passato direttamente all'utilizzo dell'e-commerce pensiamo quanto sia diffuso per esempio in india dove magari non c'è il televisore in casa ma hanno un device per fare degli acquisti online per fare qualsiasi cosa attraverso l'utilizzazione di strumenti telematici crescono le persone ulta 65 anni insomma l'avete l'abbiamo l'hanno detto tutti quelli che mi hanno preceduto questo è forse l'elemento più significativo quindi se guardiamo la parte sinistra del grafico è chiaro che la curva di crescita totale è quella che abbiamo visto prima no questo raddoppio della popolazione mondiale negli ultimi cent'anni ma di questi cento anni ma quello che ha più un crescita tasso di crescita significativo è proprio quella curva arancio che vedete che all'inizio del secolo o metà del secolo era la più bassa c'erano pochissimi 65 anni ultra 65 anni al mondo e via via stanno guadagnando spazio stanno crescendo stanno aumentando e un'altra cosa molto interessante sulla parte destra della della slide vedete che queste persone quel silver people silver generation quindi persone che hanno quel tipo di quella quell'età sta crescendo sì ma è anche quella che proporzionalmente avrà la ricchezza maggiore a disposizione quindi se noi noi che dobbiamo cercare società che possono beneficiare di questi trend dobbiamo andare a cercare quali sono gli obiettivi di spesa necessità di spesa di questa categoria è sempre più grande sempre più pesante a livello globale una fotografia dell'italia che è stata fatta molto bene prima di me e che forse diciamo segnala un problema italiano perché noi siamo forse il paradigma di tutto questo invecchiamento della popolazione in italia ci sono oltre 20.000 centenari è un numero straordinario e anche le cose che abbiamo vissuto della pandemia non ha cambiato questo trend sono localizzati in alcune aree d'italia ma in realtà l'italia è uno dei paesi con il maggior numero di persone anziane e soprattutto abbiamo pochissimi giovani quindi qui dobbiamo immaginare questo come impatta ovviamente sul sulla sanità e sul sistema pensionistico eccetera però guardiamolo ancora dal nostro punto di vista anche qui sta cambiando il tipo di spesa sta cambiando il tipo di esigenze di queste categorie che sono sempre più numerose è chiaro che abbiamo sempre saputo che c'è qualche anno in più di speranza di vita per le donne rispetto agli uomini ma stiamo crescendo in maniera significativa e quindi siamo oltre gli 80 anni quasi 85 anni per le donne e questo sta migliorando e crescendo ulteriormente nel corso degli ultimi anni allora longevità come motore qui abbiamo appunto voluto provare a schematizzare quello che dicevo all'inizio cioè che cosa vuol dire quindi cercare di intercettare questo trend la demografia la longevità come impattano sulle aziende come alcune aziende beneficiano di questi trend il primo che ci viene in mente naturalmente quello della salute sappiamo come viviamo di più ma dobbiamo anche spendere molti più molto più denaro per per curarci per tenerci in buone condizioni questo ha impatti non soltanto sulla sanità come la conosciamo quella tradizionale ma molto spesso anche si interseca diciamo con il tema della tecnologia della diagnostica quindi la sanità e la salute sono forse il tema più importante che anche chi fa gestione del risparmio chi va a selezionare delle aziende ha ben presente deve avere ben presente però lungo tutta questa questa slide ci sono tutti gli esempi di come stanno cambiando i consumi come la demografia e l'invecchiamento della popolazione ha impatti tangibili per esempio dicevamo sul tema dei consumi discrezionali non è soltanto il tema della della moda e quindi dell'alta gamma ma ci sono una serie di di spese che vengono fatte immaginiamo per esempio il settore auto come si è trasformato in questi anni come si è passati da dalla produzione di auto che erano indirizzate a famiglie con molti bambini poi si è ritornati a pensare a macchine e auto un po più indirizzate a chi in realtà una famiglia molto più ridotta no quindi il ritorno delle macchine sportive cosa che se ci pensate non era così proprio nelle nell'orizzonte immaginabile qualche anno fa ma poi soprattutto tutto il tema dell'elettricità come che impatta sulla mobilità quindi i veicoli elettrici non soltanto quelle le auto ma una serie di strumenti che servono anche per aiutare al movimento persone che non hanno tutta questa autonomia e capacità di di spostarsi quindi veramente il 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 tema ha impatti in vari punti da vari punti di vista andiamo verso la destra in fondo pensate allo sport pensate come lo sport una volta era riservato alle persone più giovani negli ultimi anni sempre di più noi tutti accediamo a pratiche sportive e anche l'evoluzione dell'offerta sta andando nella direzione di intercettare sempre più nuovi consumatori o consumatori che una volta non erano tanto interessanti all'argomento se pensate banalmente il paddle se lo confrontiamo con il il tennis ha una platea molto più grande non soltanto di sportivi che hanno la capacità di muoversi rapidamente su un campo che è molto grande e quindi anche questo è un esempio di come si sta evolvendo l'offerta rispetto a una domanda che sta cambiando radicalmente poi sulla parte finanziaria assicurativi magari torniamo alla fine ma ne hanno parlato per chi mi ha preceduto che mi ha preceduto qualcosa su real estate volevo volevo dirlo perché si è parlato prima qualcuno l'ha accennato ecco per esempio la richiesta la ricerca di case di abitazioni che abbiano caratteristiche più confacenti ad una popolazione che magari sta invecchiando sì ma famiglie più piccole magari composte da solo due persone ecco questo è un trend che vediamo in atto la richiesta di case che abbiano dimensioni coerenti con questo tipo di esigenze è più alta rispetto a case che una volta erano destinate a famiglie più numerose quindi sta cambiando anche da questo punto di vista ma poi c'è un altro elemento che il tema dell'housing che ha ovviamente tutte le ricadute legate alla sanità all'offerta di ricoveri per anziani che non sono più quelle di una volta ma sono di qualità decisamente più alta ecco questo è un altro elemento che quindi fa rientrare anche il settore immobiliare nel novero delle società che noi andiamo a guardare e selezionare quando pensiamo ad un investimento che impatta che ha impatto appunto sulla con con la silver generation con l'invecchiamento della popolazione la vecchia l'invecchiamento della popolazione qui l'abbiamo messo a confronto rispetto ai millennials perché perché di fatto noi stiamo parlando di una popolazione anziana che però era quella che viene dal boom economico sono persone nate negli anni sessanta o giù di lì insomma ci siamo anche noi persone che hanno un'età che via via avanzerà ma che hanno ancora una qualità della vita decisamente alta io prima ho parlato di salute quindi però parliamo pensiamo alla cura della persona pensiamo come sta cambiando anche il rapporto con la cosmesi con la cura in generale del nostro aspetto fisico e poi appunto c'è il tema dei viaggi con il grandissimo rilancio e slancio di tutto quello che il turismo a livello globale con per esempio tutta questa grande proliferazione di crociere di navi da crociere di offerte di viaggi che forse una volta erano un po' insomma limitate nella quantità di richiesta la richiesta è cresciuta molto le società che operano in questo settore hanno via via prodotto e messo in mare nuove navi che hanno però delle caratteristiche di qualità di offerta del servizio che sono neanche paragonabili a quelle che erano qualche anno fa però perché mettiamo a confronto queste due categorie perché forse un elemento che le persone un po' più più meno giovani ecco quelle di cui stiamo parlando non hanno tanto mutuato dai giovani perché poi se pensiamo a la salute i viaggi la cura della persone insomma anche i ragazzi sono assolutamente sensibili a questo argomento ragazzi o comunque persone giovani che orano magari entrano nel mondo del lavoro iniziano ad avere anche loro capacità di spesa però forse sul tema della sostenibilità ecco qui c'è ancora un gap probabilmente noi lo vediamo chi ha a che fare con investitori finali si renderà conto che sull'argomento magari non c'è tutta questa condivisione i giovani invece sono molto più sensibili al tema della sostenibilità al tema dell'impatto ambientale al tema della ricerca di prodotti che abbiano una filiera controllata eccetera eccetera quindi diciamo ci sono delle differenze magari sono delle similitudini per esempio sul tema del lusso però diciamo questo è l'elemento che forse ci su cui dobbiamo interrogarci noi che parliamo con i clienti parliamo con il pubblico parliamo con chi si chi ha le chi ha potere decisionale a livello di investimenti che forse non siamo ancora riusciti a far passare questo questo messaggio cioè che la sostenibilità è un tema trasversale che deve essere comunque abbracciato da tutti perché è un dovere soprattutto delle generazioni più anziane e quello di dover di poter consegnare un pianeta migliore rispetto a quello che abbiamo trovato quello che stiamo costruendo o ahimè distruggendo non penso di avere tanto tempo quindi taglio un po corto perché di tecnologia si è parlato e questo è un altro un'altra un'altra raffigurazione di questo elemento centrale che di questo spostamento verso l'asia e quindi i 65 anni dicevamo sono più che altro in Asia saranno in Asia nei prossimi anni il tema della tecnologia è come dicevo un tema che va molto a braccetto con il con l'aspetto geografico di questa di questa trasformazione proprio perché in Asia risiedono molte delle società tecnologiche ovviamente molte sono in America la maggior parte sono in America però molto si è fatto anche in Asia sappiamo che c'è anche in corso una annosa disputa tra Cina e Stati Uniti però sappiamo che per esempio nel mondo dell'intelligenza artificiale la gran parte dei brevetti internazionali sono proprio di proprietà cinese quindi queste questo aspetto questa tecnologia legato all'invecchiamento della popolazione è un tema che ulteriormente sposta l'asse verso Asia e quindi dobbiamo tenere in considerazione anche questo per ora diciamo c'è forse un po' di tempo l'America è saldamente in possesso di una serie di tecnologie però sappiamo come le cose sono molto collegate e avete visto anche in questi giorni come per esempio no il tentativo di frenare certe vendite o di l'utilizzo di certe tecnologie da una parte all'altra del pacifico in questo caso sta avendo degli effetti anche in sui mercati la tecnologia poi ha un impatto decisamente fondamentale su una serie di cose che impattano invece direttamente sull'invecchiamento della popolazione qui abbiamo fatto alcuni esempi ma magari entriamo dopo nel dettaglio però pensiamo a come la tecnologia intervenga sulla mobilità lo accennavo prima e ancora di più se pensiamo al alla mobilità delle persone che hanno dei problemi in questo senso quindi ausilio della mobilità ecco la tecnologia degli ultimi anni sta favorendo una maggiore capacità di di libertà di movimento delle persone che hanno disabilità e soprattutto quelle più anziane forse sulla diagnostica si sta facendo di più ci sono delle società che stanno intercettando questo questo trend in maniera significativa e poi per esempio gli apparecchi acustici ma tutto quello che è il tema delle delle protesi in generale hanno impatto collegamento con la tecnologia cambiano abitudini qui ho già parlato quasi di tutto e quindi passo alla fine perché e che cosa vuol dire quindi tutto questo processo che cosa che cosa come può essere intercettato da chi come dicevamo costruisce uno strumento costruisce un fondo di investimento costruisce una gestione patrimoniale si vanno a cercare delle società qui abbiamo fatto qualche esempio per esempio sulla cura della salute ci sono società molto famose quindi tutto il tema legato alla 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 farmacologia alla alla società che si che che producono strumenti di cura quindi Roche Sanofi insomma le conosciamo un po' tutte ce ne sono alcune che sono magari un po' meno famose per esempio la prima questo questo striker che vedete sulla sinistra società americana che eh si eh occupa per esempio tutto il settore delle della delle protesi eh poi ha anche la una divisione che si occupa di endoscopia quindi sono società che stanno chiaramente cambiando i loro conti proprio perché la domanda di questi strumenti sta eh crescendo in maniera molto molto significativa per esempio un'altra questa OIA quella società che vedete al centro sulla sulla sinistra è una società giapponese che invece è mh produttrice di produttore avanzato di sistemi eh mh ottici di lenti eh quindi anche qui serve per il mondo della dell'endoscopia per tutta quella diagnostica di precisione e immaginiamo quanta maggiore richiesta di esami eh sta eh stiamo registrando si strano nel nel prossimo nel prossimo futuro eh per andare per esempio a Takeda un'altra società giapponese insomma società che eh produce farmaci però in particolare nel settore dell'oncologia e della gastro ehm gastro eh gastro gastrologia non so se si dica così però diciamo tutto quello che è impatto eh nel mondo del di questo tipo di 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 problemi gastrici e quindi sappiamo come la popolazione che invecchia ha più forse problemi rispetto ad una popolazione più giovane e via così per esempio LHC eh si occupa di tecnologie riabilitative oltre che di diagnostica quindi anche questo è un elemento chiaro no del del contatto tra cambio di eh domanda e necessità di nuova offerta di di prodotti poi se guardiamo sulla parte destra sono società magari meno meno conosciute sono società che si si occupano di monitoraggio eh per esempio questo Dexcom Dexcom si occupa del monitoraggio del glucosio quindi per le persone che sono affette da diabete è un sistema di monitoraggio costante viene fatto con una eh con con il posizionamento sotto cutaneo di una sonda che rileva costantemente il livello di glucosio le altre si capiscono perché Insulet eh è è chiaramente dello stesso eh ambito però insomma ci per esempio il good Rx è una società che si si occupa di telemedicina ecco questo è anche un altro elemento innovativo cioè molte persone vengono poi curate a distanza o addirittura la diagnosi viene fatta a distanza quindi sta cambiando veramente il mondo e sta cambiando molto rapidamente in molte società quindi quello che facciamo noi eh a livello di investimento è creare degli strumenti qui ho preso qualche esempio di fondi che investono sono fondi azionari che investono proprio nella demografia nella silver economy quindi silver age o nella golden age per guardare ancora più in là vedete hanno un comportamento abbastanza simile abbiamo messo anche uno strumento che che gestiamo noi che è un po' più diversificato però vedete come hanno un andamento eh direi eh coerente cioè eh sono società sono fondi tematici che colgono proprio questo tema che noi riteniamo eh non solo noi insomma molti nell'industria del risparmio gestito un tema di lunghissimo termine e che impatta trasversalmente molti eh temi di investimento molti settori di investimento ed è un modo per eh avere un occhio che guarda in avanti e che guarda ad un'evoluzione che ahimè mi sembra abbastanza chiara anche perché come dicevamo la natalità resta molto bassa finisco con questa che un po' appunto ne ha parlato molto molto più approfonditamente la mia collega precedente però diciamo ecco forse una cosa che abbiamo notato chiaramente bisogna guardare la pianificazione insomma non voglio ripetermi probabilmente sta si sta trasformando anche la richiesta e l'offerta anche in questo in questo senso perché chiaramente parliamo di previdenza complementare abbiamo visto noi gestiamo anche un fondo pensione abbiamo visto come le richieste in questo senso per esempio delle rendite vitalizie successive con contro assicurazione sia un modo per esempio di pensare al dopo no e di e di e di pianificare anche questa questa parte bisogna guardare la parte fiscale e quindi pianificare anche in questa direzione però una cosa che non è ancora arrivata in italia che forse sulla quale forse bisogna interrogarsi sono questi trf che sono target retirement fund che sono esistono già in america e che vengono costruiti proprio con l'idea di creare quella compensazione che al momento del dell'andante di quando si va in pensione eh si ha rispetto alla riduzione del cap della possibilità di di spesa perché ovviamente il tasso di sostituzione cioè qual è il nostro stipendio e quanto è in meno eh la pensione pubblica ovviamente avremmo anche pensato alla pensione complementare però potrebbe esserci ancora una distanza ecco in qualche modo si stanno si sta pensando di costruire degli strumenti che posizionino a quel punto il target di fine eh di di dell'investimento in modo da dare una compensazione rispetto a questa mancanza di questo gap tra eh necessità di spesa perché poi uno va in pensione magari che ne sono a settant'anni sta ancora bene vuole ancora spendere vuole ancora concedersi del del delle una qualità della vita di come era quella di prima e a una distanza che deve essere colmata quindi si unisce un'ulteriore gamba di previdenza complementare diciamo così che è che sono questi target fund che come dicevo sono in America ma non sono ancora arrivati in Europa quindi forse c'è ancora un po' di spazio di eh di innovazioni di innovazione io spero Michele di non aver sforato troppo nei tempi e di aver dato un po' grazie assolutamente grazie a te e sicuramente molto interessante il tuo intervento come quello dei colleghi precedenti abbiamo ricevuto una domanda eh prima di chiudere vorrei che si fosse data una risposta e la girerei però a Manuele Soncini perché è una domanda un po' tecnica e quindi se vuole darle lei in realtà potremmo darla però visto che eh abbiamo parlato tanto immobili può farla direttamente rispondo solo subito invece alla domanda se saranno disponibili le slide sì sono disponibili sul sito della Camera di Commercio credo e poi come avete visto c'è stata una registrazione a YouTube e quindi poi potrete eventualmente rivedere tutto questo seminario direttamente registrato su YouTube a te Maruela bene grazie Michele sì la leggo adesso in diretta ehm la domanda verte sulle donazioni di un immobile dopo i famosi vent'anni è effettivamente inattaccabile grazie molto per gli interessanti argomenti eh allora qua bisogna fare un punto di chiarezza anche se in realtà c'è una proposta nel diciamo in una proposta di decreto eh semplificazioni mi sembra si chiami comunque eh una proposta che dovrebbe far sparire un po' questo problema eh qual è il punto eh diciamo nel caso di donazione eh in particolare di un immobile eh ad un ad un soggetto ecco diciamo anche non ad un figlio ehm il rischio per l'acquirente non per il donatario per la persona che lo riceve il rischio diciamo non verrà eh non cambierà mai in che termini eh perché una donazione fatta ad un soggetto è sempre un anticipo di eredità e come tale soggetta la collazione alla riduzione per cui nel caso in cui il donante avesse quell'unico immobile cinque figli e lo doni a Michele per fare un esempio eh semplice è evidente che valedere le quote di riserva dei cinque figli eh che sono appunto a seconda che ci sia il cognizio no ma insomma sono una certa percentuale del patrimonio ed è anche evidente che se l'immobile resta Michele i cinque figli possono bussare da Michele e chiedere eh ovviamente o l'immobile o se Michele ha altri denari di soddisfare la propria quota con altri denari sul donatario purtroppo questo non cambierà mai cioè Michele non sarà mai tranquillo col suo immobile eh fino a quando diciamo eh rimangono le quote di riserva nel nostro ordinamento e dovrebbero rimanere quello che cambia è eh l'acquirente dell'immobile da Michele che cosa succede adesso che se Michele vende l'immobile è ovvio che gli eredi si possono rivalere su Michele ma se Michele dice io non ho più niente eh il nostro codice civile adesso eh prevede che l'estione di restituzione possa essere fatta valere anche nei confronti eh dei dei degli acquirenti in buona fede ovviamente che non cercano niente eh con le eh non c'entrano niente con l'eredità questo rende l'immobile donato un po' eh limitato quanto alla circolazione cioè è difficile per un acquirente essere tranquillo di acquistare l'immobile donato se non c'è l'opposizione degli eredi quindi se alla donazione a Michele nessuno si oppone dopo vent'anni eh dalla donazione Michele può vendere tranquillamente perché chi fa opposizione mette una bandierina con l'idea di continuare a potersi di varere sia su Michele che su l'acquirente se nessuno fa opposizione dopo vent'anni l'immobile eh non ha più questo vizio cioè eh gli eredi andranno da Michele Michele dice io non ho più l'immobile non ho più soldi pazienza eh è finita nel senso che l'acquirente è tranquillo e se Michele non ha più soldi gli eredi non ottengono niente qual è la modifica legislativa in corso in questo momento che l'azione di restituzione anche da T con zero non sarà più esperibile nei confronti eh degli acquirenti quindi in buona sostanza Michele il giorno dopo lo può vendere l'immobile circolerà tranquillamente non avrà più vizi di provenienza il valore del bene rimarrà uguale a beni analoghi perché il grosso problema era questo no l'immobile di origine donativa valeva eh molto meno e anzi anche le banche non lo finanziano e quindi diciamo sarà potrà circolare tranquillamente questa speriamo sia una modifica un po' più al passo con i tempi a mio parere prossima spero di non avere complicato ulteriormente ma il problema è un po' lunghetto certamente ti ringrazio Manuela c'è una domanda per la rivista se vuoi dare sì sì ma ora rapidamente una risposta ehm il 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 vero tema è bisogna cercare di sensibilizzare un po' tutti cioè io penso che ehm non so noi gestiamo un fondo pensione per esempio mi mi sono reso conto che eh alla fine noi abbiamo questo strumento ma come molti altri non voglio dire che se lo facciamo solo noi ed è uno strumento di una potenza enorme ma non è considerato eh in maniera così diffusa anche dai clienti del gruppo cioè eh pensare ad una ad una ad una ad una ad una forma complementare che però abbia dei contenuti finanziari chiari eh e che però abbia dei connotati di eh minore incidenza fiscale se non addirittura degli sgravi che ci sono eh fino entro a certi importi qui potrebbe fare qualcosa una eh un cambiamento anche normativo perché oggi la quota che può essere dedotta è veramente molto bassa ancora legata a quando c'era la 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 lira no? Quindi sono cinquemila e x euro sono quei dieci milioni di lire di un tempo veramente sono passati oltre vent'anni dall'introduzione dell'euro forse avrebbe anche un senso riadeguare questi strumenti però eh la 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 fiscalità migliore la fiscalità ridotta può essere comunque è comunque presente ecco forse fare un po' di sensibilizzazione sensibilizzazione la persona che fa la domanda giustamente parla delle scuole però io trovo che ci sia una carenza anche tra tra noi cioè tra le persone che oggi devono contribuire forse sono già in ritardo ma che preferiscono avere magari forme di investimento un po' diverse e forse percepiscono quelli in maniera non così completa quindi probabilmente abbiamo sbagliato noi qualcosa sbagliamo tutti noi eh qualcosa ma secondo me avere considerare quello come uno strumento che va affiancato a tutti gli altri è l'unico modo per riuscire ad avere poi un domani un po' più sereno io eh che inizio a avere un po' mi avvicino ai sessant'anni e quindi inizio a avere anch'io questa idea di arrivare a un certo punto di pensione mi rendo conto che però se vado sul sito dell'Inps e faccio sì ma quant'è la mia pensione e francamente inizio a avere dei dubbi quindi guardo il mio fondo pensione contribuisco ancora di più perché è l'unico modo per dare ridurre quel gap che di cui parlavo prima quindi secondo me bisogna fare del sensibilizzato cioè cercare di lavorare in questa direzione forse eh Michele tu che sei così attivo voi che siete così attivi magari creare anche qualche webinar su questo argomento sgombrare un po' il campo da certi dubbi perché insomma chissà come vengono investiti ed essere un po' più eh attenti e guardare un po' un po' più avanti magari essere più chiari noi nell'esposizione di come sono costruiti questi strumenti che poi sono fondi come gli altri eh hanno gli stessi eh strumenti hanno quelle azioni che vedete noi le usiamo nei fondi comuni così come nei fondi pensione e quindi hanno lo stesso obiettivo eh da un punto di vista finanziario. Sicuramente se posso aggiungere eh ci sono tanti enti guacchi la stessa Torino Finanza o l'associazione consulenti finanziari che fa molta attività di educazione finanziaria diciamo che però l'educazione finanziaria è sì corretta farla è corretta anche sottolineando quali sono i rischi e i pericoli di un futuro ma eh oggi come oggi si concentra molto in un'educazione finanziaria verso gli adolescenti mentre eh come hai detto giustamente te è un'educazione finanziaria che bisognerebbe dare più verso le persone adulte e sono le persone adulte che devono essere prima di tutto educate. Eh l'adolescente ha sicuramente un interesse di educazione finanziaria ma che è differente e quindi eh è un processo che hm normalmente viene guardato soltanto con un occhio invece di guardare completamente tutta la prospettiva. Quindi sì sono d'accordo con te. Tanti enti fanno tante associazioni come ripeto anche Torino Finanza o l'associazione dei consulenti finanziari fanno educazione in tal senso eh diciamo che forse oggi c'è un pochino più di sensibilità e quindi l'educazione viene ricepita un pochino di più. Non so se ci sono altre domande non ne vedo. Allora io direi che prima di tutto vorrei ringraziare tutte le quasi cento persone che hanno mantenuto l'attenzione per tutta la tratta del seminario. Quindi questo prima di tutto un grazie a loro ma poi grazie a tutti i relatori perché avete tutti quanti aggiunto un pezzo in più di eh novità e di informazione e di educazione proprio su questo problema qua che è un problema quello della longeviti uso il termine problema nel senso come un argomento da eh sottolineare portare avanti di sempre di più come educazione. Ringrazio Torino Finanza e le varie associazioni che ci hanno sopportato. Vi invito di seguirci per il prossimo seminario seminario che faremo magari effettivamente sull'educazione finanziaria. D'accordo? Grazie a tutti e buona serata. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.